Vuoi conseguire 12 crediti formativi universitari nella disciplina IUS09? Presso la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Icotea, autorizzata dal MIUR, è possibile seguire singoli insegnamenti attivati presso la comoda piattaforma e-learning Icotea. Dopo aver sostenuto l'esame di profitto scritto e orale, si riceverà regolare attestazione comprensiva dell'indicazione dei crediti formativi conseguiti. Il corso Istituzione di Diritto Pubblico IUS09 ti consente di conseguire 12 CFU utili per colmare debiti formativi, partecipare a concorsi pubblici, ecc. Vai su www.icotea.it, tipologia corsi singoli, avvia la ricerca, Cerca, Istituzione di Diritto Pubblico IUS09, Monteore 300, CFU12, durata 75 giorni.